Ciao ragazzi, ciao a tutti. No, no. Dice tu? Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera signorita. Ciao ciao. Ciao ragazzi. Siamo in Ferrara per vedere fiera di cioccolato. We are in Ferrara for event. Yes, I want to show this event. Russo? Russo bisogna dire? Russo? Aven. Всем добрый вечер. Желаем вам хорошего настроения, потому что мы хотим вам показать шоколадную ярмарку, которая проходит в эти дни. Be, doesn't happen. Repeat the easy food. Ciao. Ciao. Bye. who is going? Let's go. Good time. Good time. 19 e 40 Ok It is 4 o'clock Piem Now it is 4 o'clock And of course more Oh, what a work Wait Wait I am I am Are you looking at the camera? Are you looking at the camera? You are looking at the camera No, it is different After the camera, it will be great I am looking at the camera Are you expecting a camera? No You see that? After the camera After the camera After the camera and now we are here because I think that there will not be many people and I can show this event much better we have arrived a little bit earlier until the start, how to say, when there will be a lot of people and when it will be difficult to show, so we have arrived a little bit earlier we have not been able to travel we haven't been able to travel yet we haven't been able to travel yet but it is still too cold for what? for cozze? for pizza? no, for food to eat they are still open because there is a house two two one two two Grazie. 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 Guarda che posto. Zadzi. Zadzi. Siamo quasi arrivati. E che bianca borsa, finalmente. 29. Borsa in pelle. Cantaloni, ecco. Vorrei far vedere. Va bene, va bene. Voglio far vedere questa borsa. Ecco il problema che non è comodo. Hai capito? Alla fine io non mi ricordo di questo posto. Alla fine io non sono stata convinta al cento per cento. Ho capito. Ecco il problema. No, perché io volevo farti regalare questo valentino. Mappa. Ma che mappa? Molto meglio la borsa, scusa. E' matta. Non diciamo passaggio. Neanche qualcosa che sia utile, che ti dura nel tempo. Non deve passare. Sì, questo. E' questo. Proprio questo. Perché la borsa lì ti durava degli anni. Ma io dico che tu durava per anni. Per mille anni. Per mille anni. Ma che mille anni. Borsa da lavoro? Basta. Quando vedi per lavorare ce l'hai quella. Sì, ma Trent sempre cambia. Ma quella per lavoro, non per quella. Sì, ma anche io non vorrei mettere sempre una borsa. Io vorrei un po' cambiare. Sì. Hai capito? Buono. Vabbè. Amore, io non ricordo questa libreria. No. Ho dubito che sia una cosa nuova. Perché sembra un po' vecchienetto. Boh. Sei sicuro? Sono delle suore dentro. Non penso che siano qua ne arrivati. Ma perché noi non ricordiamo? Perché non ci abbiamo mai fatto caso. Davvero amore. Abbiamo attraversato sempre qua. Terra Cala. FinaiktiamoON INPREmerantero Vabbiamo! Il rischio èzyka aiutato su 50 COMM E missile un Sometimes della testplaya hanno preso del manto. Sto pensando che forse mi voglio prendere i tubottoni del tipo Averex, perché quello lì è veramente bello, sì, era veramente, beh, certo che 219 non sono pochi, non lo so, penso la verità, quello lì era molto bello. Pensaci bene. Eh, penso bene. Sto pensando. Sto pensando. Sto pensando. Ci sta. Ci sta. Me lo pago 45 euro al mese, che capisci ne prego. Ecco, cioccolati, cioccolati, gelati, cioccolati, dolci e rosanati. Ma questo non è cioccolati, questo è un po' parmesati. Parmesan. Siamo arrivati. We are here. Ehi, cosa fanno? Ciao. Allora. Allora. Andiamo a vedere? Sì. Andiamo a vedere cosa c'è, cosa c'è. Let's go, show. Let's go. Food market. Food and market. Mamma, mi sembra strada principale le lette. Yes. What is for mancio? Oh, mancio non voglio, perché guarda quanto cioccolato. cioccolato. Ecco il cioccolato. Ehi. 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 Tu hai preso già qualcosa? Macaroni Mamma mia No bene Grazie Il cioccolato piamantese Il cioccolato piamantese E sì, prima vediamo Allora, guarda qui Questo lecco Buonasera No, grazie Noi andiamo Buonasera 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 Grazie per la visione Tutto bello Andiamo avanti Amore cosa ti hai preso? Vuoi provare? Sì, questo è il paradiso di cioccolato Venga ragazzi, buongiorno Buongiorno, buonasera Buongiorno, buongiorno Io vorrei assaggiare tutto Vuoi un bel? I want to try all Ah, tutto è duro questo Meglio romperlo No Dopo io dovete tolire Cos'è questo? Perugia Perugia senza glutine Amore non mangia questo Perché molto No, grazie Si può rompere i denti Mi ho già quasi rotto Mamma mia Allora Da dove loro sono? Veneziana Giolateria veneziana Guardiamo Prego, cosa mi faccia assaggiare? No, grazie Adesso guardiamo Perché abbiamo già questi Che cosa mangia? Che cos'hai? Piemontese mi sembra Lui ha preso Mi ha fatto un mix Mi faccio assaggiare il mio cioccolato Venga Signora, venga Io o no? Figlie e lamponi Sembra il profumo Assaggia questo signora Che è il cioccolato buono Venga Io o no? Prendo a lei La mangia tutto Sì, sì Allora A proposito Dove tu hai cipito? No, non c'è Non c'è cipito Come è possibile, amore? Tu aspettavi così tanto Tu hai cipito Ma che no c'è Allora Cosa c'è qui? Azienda Agricola Lampardia Sì 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 Mi viene Sì Sì Non hai un messo di questo? No 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 Allora Qui pasticceria siciliana e Napoli Guardiamo No certo Cannone siciliana Bamba in Rum Gorda di ragù Cosa 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 un po' di carne, popoloni, popoloni, miglioni, rettelli. Tutto buono amore, la pasticceria. Eh sì. Ehi, ecco amore, ma ne intine, ma ne intine. Allora, cosa c'è fondente mi sembra? Sì, è fondente amore, sì. Buono. Ciao, buonasera. No, grazie. A me è piaciuto con poco. Oh, sì. Andiamo in tutto. Sì. Questo è buono. Mendole, cioccolato caldo. Sì. È molto buono. Quale? Diti la crema che c'è dentro. Cuccolato. Macaron. Senza dubbi, in specialità, se ce ne ha le. Cuccolato. Ehi. 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 Buonasera! Sembra buccia doveci! Macaroni, macaroni! Eccolo! Eccolo! Chi ce l'hanno? Un tesettino di pollo non mangialò! Non ho preso niente! Finito! Si, impara! Eeeh! Guarda, fra poco a San Valentin! Qui? Che cosa fa signore? Forse... Forse sarà luce! Ah? Chissà! Penso, penso di sì! Ok, andiamo! Eccolo! 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 Ma mamma mia! Eccolo! Eccolo! un po' lì c'è Svicher andiamo verso Castello? sì sì stavo pensando che a 200 euro non lo trovo più un montone così costa pochissimo, 200 euro e niente per un montone di pelle così cioè non lo trovo mica più eh fatto così con il taglio Avirex così da aviatore non lo so più perché io mi ricordo che a Bologna un giubbotto così costava 700 euro 600, 700 costava amore tu che pensi te? costava il doppio, il triplo se tu cacio prendi no, è perché mi sembra che c'è il presto hai capito? ho capito andiamo a vedere com'è, me lo provo, vediamo vuoi andare ora? quando torniamo indietro tanto adesso sono alle 5 e mezzo, dove sono? sì, 5 e 40 ma fra poco loro chiudono tu pensi? sì alle 7 non si ce l'abbiamo ancora novetta sì sì ora dai facciamo il giro e poi torniamo indietro ok vabbè andiamo andiamo l'unica cosa che hanno chiuso strada per attraversare lì hai capito? o no? tu mi hai capito no? non ho capito hanno chiuso strada perché? per entrare in castello e perché? I don't know I don't know vieni con tac oh scusami eh ma qui cosa c'era? guarda tu amore tanto tempo come tu non ricordi? no questo non me lo ricordavo vai dimmi cosa tu ricordi? cosa tu ricordi? te ne prego la scuola Giulietta aspettiamo qua oh eh che bel borsa si infatti hai ragione a me piace questa borsa se c'era vanta euro forse no eh si saldi scritto i saldi i saldi moh è bella si deve essere bella e bella si vede anche un bel tessuto deve essere bella e bella ah vedi come costava prima si ma se la porti in giro per lavoro si rovina subito quella lì eh la distruggi proprio notizie e ti spie ti spie io io ti spie e i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a mangiare i pesci? Andiamo. Ma tu riesci a trovare? E no, è troppo alto. Con mia mordecca io non riesco a prendere. Andiamo a mangiare i pesci? Andiamo a mangiare i pesci? Andiamo a mangiare i pesci? Ehi, guarda come loro l'hanno fatto. Non era così? Non mi ricordo. Sì, in effetti non era. Pesci? Pesoloni? Eh sì. Ma non abbiamo preso neanche pane per loro. Andiamo a mangiare i pesci? Andiamo a mangiare i pesci? No. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare i pesci? Andiamo a mangiare i pesci? C'hai un po' di caso. Andiamo a mangiare i pesci? Andiamo a mangiare i pesci. Andiamo a mangiare i pesci. a 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 amore bisogna mettere per sua faccia mascherina bisogna mettere mascherina per tutti i facci ma anche signora non deve stare con la mascherina è ricoloso ma anche signora non deve stare con la mascherina si bisogna comprire bisogna comprire vediamo per tutti la mascherina si 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 ti ho richiamato perché ho visto che qualcuno va a saccare ma non ho visto che era il tuo questo dimmi no ti serviva si 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 e che modello è? che modello è? eh 7S26 7S36 eh si te lo trovo te lo trovo so si che cosa ti serve 7005 ah ma cos'è? ma cos'è? c'è il giorno alla data? c'è solo i tuoi e cosa ti serviva? un movimento nuovo? ah secondo me secondo me se lo vuole mettere la porta conviene prendere un movimento nuovo tanto boh adesso sento ah ci abbiamo la secco allora stai stai guarda guarda un imbarcadero tutto il movimento tutto oppure questo movimento solo la macchina Grazie. Grazie. Amore, prendiamo questo. Queste sono le palle del pannino. Eh sì. Prendiamoci. Perchè no? Oh. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che bello, mamma mia. Hai visto che lampadario che c'è l'hanno lì dentro? Ora faccio provare da vedere. Mamma mia, che sala. E' un salotto, ma mi sembra che teatro. È incredibile. Sei sicuro? C'è scritto portici del teatro. Ah, va bene. c'è la città Rara. 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 Grazie a tutti. 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 Tu puoi andare? Tu puoi andare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo proprio perché sennò non riusciamo più a provare il giubbotto, mi sa. Ah, andiamo. Subito. Andiamo a far fare il giubbotto. Grazie a tutti. Sennò non riusciamo più a provare il giubbotto. e se non riusciamo più a provare il giubbotto. Andiamo a fare il giubbotto. e non riusciamo più a provare il giubbotto. Andiamo a fare 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 il giubbotto. Grazie a tutti. 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 Tu non vuoi canoli siciliani? No, no. Grazie a tutti. 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 Guarda che tantissimo. campione non lo so non lo so tutti campioni? eh sì assolutamente fuori tutto ma sei contento? cosa? che hai preso? sì perché è così questo qui è un giubbotto che ti dico io quando li vendevano negli anni 80 costavano non so un milione 800 mila lire corrispondente al valore di oggi di 400 euro 500 euro solo che parliamo di 40 anni fa 35 anni fa in pelle sfoderati così con il montone lo stai scherzando se lo trovi un giubbotto con il montone a 200 euro? non trovi mica? eeeh pizze cozze adesso io quelle che ho visto in giro non di marca come questo questi sono tutti 3 400 euro ma se andavamo quando siamo andati a non mi ricordo dove è che c'era tutta quella pelle a Firenze a Firenze costavano così 300 400 euro ma davvero si costavano così costavano così e neanche tutti ce li avevano così belli che odore mamma mia e neanche erano così belli oltre punto ma è sempre pizza pizza? Sì, è solo un progetto per prenderti il calore. Sì. Che c'è? Assolutamente mettere... Cosa? ...e altri robottini. Ah! Perché ce l'ho troppa roba di giugno che vende qualcosa per me. Io ho già venduto. Sì, ma sei stata brava. Ecco, certo. In che senso salvare cosa tu mi metti? Io ti do... Ehi, guarda che belli robottini. Sì. E sai, per lui, eh. Appena ce la diamo te... Mi piace giallo, dico la verità. Eh sì. 187 euro con la farina. Penso te. Penso te. No, no, bisogna andare da... Come si dice? Come si dice? Mercatino. Come si fa? Andiamo a portare anche mia. Perché io adesso sarò veramente troppo con il mio armadio. Non mi ci stanno proprio. Io faccio tutto sotto. Vabbè. Quale mercatina tu vuoi andare? Quella dove hai venduto tu. Ah, va bene, andiamo. Tu ricordi bene? Cosa? Questo è il mercatino. Sì, io ricordo che... Ah, tu puoi usare le mie carta? Andiamo insieme. Andiamo? Andiamo insieme. Andiamo insieme. Così tu prendi i tuoi soldini che hai venduto. Eh sì. E porti altri. Eh sì. Un po' di... Anzi, ce l'ho messo la voglia. Ehi, guarda! Ehi, guarda, che bello! Ehi, guarda, che bello! Ehi, guarda, che bello! sono 399 euro con l'affare lì va bello, tutto bello se ne hanno un coraggio delle uni proprio eeeh chiedere 200 euro con l'affare con l'affare allora diciamo arrivederci arrivederci questa è stata bella strada di Ferrara con Art Chocolate è sì good bye good bye good night good bye всем всем привет всем пока-пока ciao ciao Grazie a tutti.